Ciao a tutti ragazzi siete benvenuti in questo nuovo video e oggi ragazzi giocheremo a Fraggy, è una nuova mappa di Roblox E ciao ragazzi ora siamo in compagnia di ProX9Z, saluta ciao a tutti comunque per l'altro canale di ProX9Z Ciao Sì stiamo facendo il video contemporaneamente Si sente anche la voce secca ragazzi scusate imitanto Eh raga stop il video, aspettiamo perché c'è scritto Game Over Ragazzi praticamente su questa nuova mappa, nuovissima mappa di Roblox che non l'ha fatta ancora nessuno E praticamente ragazzi è come il gioco normale che praticamente voi siete seduti in una sedia Vabbè ovviamente ci sono tutti quelli, non dovete spreccare l'energia sapete Scusate ancora per la voce secca Per la voce secca Eh vedete qua ragazzi è pieno di pupazzo Lo shop Nope, 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 nope Vabbè comunque ragazzi ci vedremo appena inizia la partita Ok raga dovrebbe... cosa dobbiamo fare? Dobbiamo votare Dobbiamo votare Io voto Cosa voto ragazzi nella prossima la prossima volta scrivetelo i commenti? Questo Ho cliccato bot Non ci credo Raga dovrebbe iniziare Raga dovrebbe iniziare Raga dovrebbe iniziare Oh Pro X9 Z Ro X29 Ho rifatto il video Ok Ok Comunque io mi sono buggato Ro X29 Sono io freggy Ro X29 mi sei buggato tutto Ok Ro X29 Eh mi dica mi dica sono in video Mi sei buggato tutto Sorry Ma questi sono errori del mestiere O orrori del mestiere Vabbè O in questo caso Orrori del mestiere Perché Metto una trappola C'è nessuno C'è nessuno Vi dico che è la prima volta che gioco a Fnace in Freddy Quindi C'è già qualcuno C'è già qualcuno Uccidimi L'ho ucciso Qua c'è una specie di Pro X9 Z No no dai Non la uccido Anzi Però l'altra volta lei mi ha ucciso da ragno No io 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 non ero in chiamata Quindi non posso sapere Ha ragione dai Ha ragione ha ragione Allora non la uccido Non mi ha ucciso vero No lei è ancora vivo Eccolo uno che Eh tu scappavi Lei Lei è ancora vivo Non si preoccupi Grazie 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 Ma io mi sto alzando e abbassando Aspetta che guardo Sì Non uccidermi lo stesso Non mi riesco a muore Perché tanto sto guardando gli altri Non posso guardare me Ok Eh ragazzi Comunque abbiamo già fatto Ne abbiamo già uccisi due No? Sì Ne mancano altri due in teoria Aspetti un attimo Ma manca Pro X9 Z No no manca Eh Nara Izan Eh È vero manco io Manchia solo lei Allora l'ha ucciso E un altro Eccolo qua Eccolo Ora muore Morto Morto Ora manca lei Vediamo se manco io Un attimo Non mi uccido Manca solo lei Non manca Marova Manca Marova Chi manca? Manca Marova e Giovi E chi ne so dove sono io Ti uccido lo stesso Dai scherzo Non la uccido Lei sarà L'ultimo che ucciderò Ma come si? Comunque ragazzi Sto continuando a mettere trappole E così Scusate tantissimo Se si vede l'aggoso Ma è perché va piano Freddi E' solo per quello Se sentite tipo qualcosa Si raga il ventilatore 40 gra Si Qua se mi metto a fare il video Senza il ventilatore E divento La piscina Lei ne ha uccisi due vero? In realtà Io ne Credo di averne uccise tre Si Tra Come si chiamavano? Che ne so Io Ha ucciso una ragazza? Boh Oh Oh Mamma Io solo quelli che vedo Gli uccido tranne lei Per ora Eh sono bravo Mi raccomando ragazzi 500 iscritti Oh raga A 500 iscritti Vi farò vedere la mia faccia Farò anche dei video con la faccia Però dobbiamo arrivarci Però dobbiamo arrivarci Raga due persone Lei è morta sicuro Allora o lei si sta ferma signorina O la uccido Scelga Mi uccida Mi uccida Brutta Eh come ho detto lei Si ma dai Ma son più lento di chissà Oh vabbè Divento pippo eh Ti giuro se qualcuno ha la chiave lo ammazza E vabbè io mi metto qui Ora voglio vedere Guarda che Ragazzi ci vedremo Appena vedrò un'altra persona Se no Eh scherzavo raga No Ti ho ucciso No Ho ucciso ProX9Z Sa ora cosa le faccio? Non ci credo Mi scusi ma ci sono Scusate ragazzi ma perché ci sono due C'è mostri? No ci sono due mostri Perché il mio telefono nuovo sta bollendo? Sto bollendo Perché devi mettere la pasta ancora Aspè che bollela Ottimo me lo leggo tutto Ecco ora Ma come fa ad ucciderci Vabbè Come fa a vincere lei con due mostri No contro le regole Sto legato tutto il telefono Cosa? No no vabbè Comunque sta bollendo Aspetti non l'ho sentita veramente Sto bollendo il telefono No avevi detto che se lo spachi Ragazzi Sì Se volete che vi porto la storia di Nice and Freddy La vera Raga Dobbiamo arrivare ai 500 iscritti Ai 500 iscritti Sì mi dica No 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 Prox 29 20 like Per fare la serie vera Sì 20 like e 500 iscritti Raga please No no 500 iscritti no No li sto aspettando da tanto Per favore raga Se arriviamo a 500 iscritti Raga vi saluto tutti Quasi tutti Nel video Se arriviamo a 500 Entro questa settimana Prox 29 Facciamo 450 Ok 450 iscritti Raga vi porto la storia Anche con 20 like Please raga Dai manca pochissimo Ci rivedremo alla prossima Quasi uccisione C'è Circa Ok ragazzi Eccola Maleditions Dov'è Ma perché Ora muore Non si può Ora deve morire dai laser Cosa crede di fare lei Non ci credo E ora non può più uscire da qui Perché gli ho messo la trappola Questa cosa ragazzi è sacra Comunque ragazzi Ci vedremo alla prossima Uccisione Ragazzi Ho ucciso solo tre persone E poi Sono ritornato perché Mancava il tempo Sorry Comunque ragazzi Grazie per aver visto questo video Mi raccomando Lasciate like Iscrivetevi al canale Attivate la campellina Per non perdervi il mio video Iscrivetevi a ProX9Z Pando Antonino 345 Annadei 132 Scrivetemi sempre nei commenti Quello che volete Quello che volete Scrivete nei commenti Scusate ancora Per la voce Sono morto Comunque Ciao ragazzi Ci vediamo alla prossima